Riunito a Palazzo di Città il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, l'assessore comunale alla pubblica istruzione, Claudia Alioia, ha parlato di giornata meravigliosa di partecipazione e passione civica da parte dei più giovani cittadini di Foggia. I 44 consiglieri junior nella riunione presieduta dal minisindaco Gianpaolo De Leo e alla quale hanno partecipato i suoi otto assessori, hanno presentato e discusso le linee programmatiche per l'anno scolastico 2017-2018. Secondo l'assessore comunale alla pubblica istruzione, che ha partecipato alla seduta, assieme al presidente del Consiglio Comunale Luigi Miranda, le istanze che ci sono state illustrate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi non possono e non devono essere una formale e retorica circostanza. Viceversa, precisa l'assessore Lioia, abbiamo il dovere di farne un punto di riferimento impegnandoci innanzitutto sul fronte delle risposte che forniamo nel campo della formazione della scuola, sia sul piano infrastrutturale, sia sul fronte propriamente didattico. Nel giorno del festeggiamento del decimo anniversario dell'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, abbiamo ascoltato dagli amministratori junior della città proposte ed idee concrete.